E eccoci qua, reazione ai convocati per queste due giornate di qualificazioni agli europei della nostra nazionale Prima di tutto però like, commenti, decisioni, condivisioni e campanellina Cosa importantissima che voi ci mettete poco per farle quindi fatele che vi costano poco E con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi Quindi che aspettate fatelo Se volete ditemi la vostra acquisto di un commento sui convocati di spalletti Per queste due gare della nazionale italiana per le valivoli per le qualificazioni agli europei Allora Allora I convocati di spalletti per queste due gare di qualificazioni agli europei Partiamo ovviamente dalla porta dove troviamo Gianluigi Donnarumma del Paris Saint Germain Alex Meretti del Napoli, Ivan Provedel della Lazio, Guilamo Vicario del Tottenham Convocazioni giuste Ovviamente Donnarumma al di là di tutto rimane sempre il portiere titolare della nazionale Ed anche giustamente perché ha bisogno di fiducia, ha bisogno di giocare partita dopo partita Per ritrovare parate e soprattutto consapevolezza con la porta E poi gli altri bene Poi gli altri sono delle giuste convocazioni perché stanno facendo bene nei loro club di appartenenza Quindi meritano almeno di avere il posto in nazionale Anche se non da titolari ma meritano di averlo Perché al momento comunque dicono perché non cambiate Donnarumma in porta Cioè al momento spalletti in gare così importanti non può fare esperimenti Poi magari se avrà un amichevole proverà a portieri come Meret Provedel e Vicario Ma io gli do ragione perché comunque in partite così importanti non ti puoi mettere a fare esperimenti in porta Non puoi prendere questi rischi Quindi Donnarumma adora il titolare Confermato Difensori Passiamo ai difensori Francesco Acerbi dell'Inter Alessandro Bassoi dell'Inter Chissima Braghi della Fiorentina Matteo D'Armina della Fiorentina Giovanni Di Lorenzo del Napoli Federico Di Marco dell'Inter Federico Gatti della Juventus Gianluca Mangini della Roma Giorgio Scalvini dell'Atalanta Destinio Dogi del Tottenham Anche qui tutti con un gioco in vocazione giusta Perché comunque sono tutti difensori che stanno facendo bene con il proprio club di appartenenza Due paroline vanno su Federico Gatti della Juventus Ed è signo Dogi Federico Gatti Ho sentito in tanti che è stata criticata la loro convocazione Però signori Gatti al di là di quell'autogol che ha fatto col Sassuolo Cioè un autogol col Sassuolo non è che lo rende scarso voglio dire Gatti è comunque un difensore di tutto rispetto E con la Juve a parte lasciando stare quell'autogol Merita sicuramente il posto innazionale Non da titolare ma almeno il posto innazionale dalle convocazioni se lo merita secondo me E Destinio Dogi del Tottenham Finalmente Finalmente perché comunque od oggi è da anni che tra Udinese e Tottenham Sta facendo gli sfraceli Sta veramente spaccando E quindi finalmente si è meritata la convocazione nei grandi della nazionale Finalmente si è preso e si è soprattutto meritato la convocazione nella nazionale Centrocampisti Convocazione Jack Buonaventura Concludiamo con gli attaccanti dove troviamo Domenico Mimbo Perardi del Sassuolo Federico Chiese della Juve Moise Ken della Juve Giacomo Arspadola del Napoli Gianluca Scavalca Mattia Zaccagni Nicolo Zagnolo D'accordo anche qui con le convocazioni Mi fa piacere anche che ci sia Scavalca Perché con l'Atalanta ha fatto un buon inizio di campionato E' un attaccante che secondo me con lo spalletti può migliorare tantissimo Se vedete l'assenza di rete che comunque è infortunato e salterà questi due impegni della nazionale E ha saltato già Genoa Milan E nota positiva anche Moise Ken che secondo me con lo spalletti potrà rendere Comunque questa è la mia reazione ai convocati per le due gare delle qualificazioni Agli Europei 2023 e 2024 contro Malta e Inghilterra se non mi sbaglio Poi correggermi nei commenti se ho sbagliato Ditemi la vostra se volete su questi convocati E noi ci becchiamo con un prossimo video Ciao belli